I paradossi in vista della ripresa del campionato e in generale del calcio sono dietro l'angolo. L'assurdo si nasconde nelle pieghe e nei dubbi degli esperti ed analisti che ancora brancolano nel buio in attesa di tempi migliori. In ogni caso il dado pare essere tratto. Il 4 maggio dovrebbero ripartire gli allenamenti, intorno al 27-28 maggio poi ci sarà la ripresa ufficiale della Coppa Italia con partite di cartello, mentre ad inizio giugno si dovrebbe tornare in campo per il campionato. E qui c'è il primo dubbio. Per dirla brutalmente, chi pagherà gli stipendi dei calciatori in scadenza il 30 giugno semmai, come sembra possibile, il campionato dovesse finire il 2 agosto? Gravina, la FIGC e i presidentissimi del calcio che conta non hanno minimamente intenzione di arretrare e cercheranno di trovare soluzioni anche in questo senso. A differenza della Serie C che nutre ancora molti dubbi legati ad esempio anche al rispetto dei protocolli sanitari. Nessun club ha a disposizione centri sportivi, tanto meno grandi cifre per garantire sanificazioni degli ambienti e tamponi per i calciatori da fare settimanalmente. Ma non solo. Un altro dubbio rispetto alla ripresa delle ostilità calcistiche riguardo ai luoghi. L'intervista rilasciata ieri da Walter Ricciardi, membro di Spiccodi e l'Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del governo, anche e soprattutto in tema Covid, ha chiarito con esattezza che il Nord Italia potrebbe non essere ancora pronto a riaprire con normalità i suoi confini. Questo cosa vorrebbe dire dunque? Probabilmente che il campionato potrebbe continuare in sedi, per così dire, distaccate nel centro-sud. Complesso da organizzare, ma realistico nella testa degli esperti. Insomma, la ripresa è alle porte, ma le difficoltà restano. Ancora moltissime, così come i paradossi da sciogliere, in una nazione in cui, ricordiamolo, il calcio rappresenta ancora, per importanza e per PIL, il terzo settore dell'economia.